ciao massimo vedo qua grappoli selezione che cos'è grappoli selezione è un'idea che nasce circa tre anni fa abbiamo pensato di scommettere su un contenitore innovativo per l'italia ma non per l'europa questo contenitore il bag in box bag in box quindi parliamo di vini di vini si infatti l'idea è stata questa scommettere su questo contenitore inserendo all'interno di questo contenitore vini di qualità abbiamo così scelto vini provenienti un po da tutta italia e siamo in grado di dare ai nostri clienti un assortimento praticamente unico attualmente in italia credo che siamo quasi gli unici ad avere un assortimento così ampio di vini di qualità ripeto nel bag in box e puoi dirmi qualche vitigno più particolare allora noi abbiamo cercato di prendere dei vitigni che identificassero delle zone precise d'italia cioè io se per esempio ti dico negramaro tu immediatamente pensi alla puglia piuttosto che tra miner ti viene a pensare alla zona del triveneto e questi ecco nel frattempo ti hanno già detti due di questi vitigni ma possiamo avere il pecorino che proviene dall'abruzzo come la falanghina che invece è della zona del benementano scusami massimo io sono marchigiana delle marche cosa hai scelto delle marche ci abbiamo un vino d'occhio il rosso viceno ci abbiamo la passerina ci abbiamo un altro vino d'occhio bianco il falerio benissimo e dove li posso trovare questi grappoli selezione che tra l'altro mi hanno incuriosito molto noi abbiamo un sito dove è possibile acquistare online che si chiama www.grappoliselezione.it ed in più stiamo attualmente operando principalmente nella regione marche che è stata quasi tutta coperta anzi se posso cogliere l'occasione per invitare qualche agente di commercio che voglia collaborare con noi a scriverci presso la nostra mail che è candidati chiocciola aribel.it perché aribel è l'azienda madre del marchio grappo di selezione così possiamo eventualmente fare qualche colloquio per ampliare la nostra rete vendita che attualmente ripeto sta coprendo solo le marche e alcune zone limitrofe alla nostra regione ma deve espandersi in tutta italia grazie massimo e allora brindiamo con grappo di selezione